La guerra civile poi fu vinta dai rossi e l'Ucraina rientrò come Repubblica Sovietica dentro l'Unione Sovietica dopo il 1923 quando ufficialmente nasce l'Unione Sovietica. Serbando però sempre una posizione potremmo dire privilegiata dal punto di vista dei rapporti internazionali, meno privilegiata dal punto di vista della pressione interna. Tant'è vero che quando nel 1941 i tedeschi invadono l'Unione Sovietica a sorpresa il 21 di giugno del 1941 l'Ucraina spalanca le porte ai nazisti e collabora attivamente al massacro degli ebrei ucraini che vengono praticamente estinti. L'antisemitismo da quelle parti è stato fortissimo, fra l'altro pare, io non sono uno studioso che si sia dedicato specificamente ai famosi protocolli dei savi di Sion, ma la tesi più accreditata è che quel testo, quel falso notorio antisemita sia nato proprio in Ucraina per opera di una parte della polizia politica zarista dell'Ucraina. Cioè è una tradizione che del resto anche la Polonia ha avuto quando venne fuori quel libro di Bendersky che in Italia non è mai stato tradotto, ma in Stati Uniti ha avuto un grande successo, in cui si documentava che certo i tedeschi in Polonia hanno fatto un massacro di ebrei inaudito avendo manforte da moltissimi polacchi antisemiti. Va bene, questa è la tragedia della Seconda Guerra Mondiale di cui spesso poi si parla in maniera soltanto retorica. Ciò ha determinato alla fine del conflitto una situazione in cui l'Ucraina conserva una posizione privilegiata, ha un suo seggio autonomo alle Nazioni Unite, fra l'altro, però è sotto pressione dal punto di vista politico, nel senso che le vendette contro i collaborazionisti filo tedeschi sono durissime e chi ebbe il compito di rimettere in riga un paese che si era alleato convintamente col Führer tanto da costituire la legione ucraina delle SS che ha infierito in Italia, ho conosciuto un professore di Bolzano, Berto Perotti, che è stato torturato in campo di concentramento vicino a Bolzano nel 44 dagli SS ucraini che erano i più feroci rispetto agli stessi tedeschi. Va bene, questo non vuol dire che tutti gli ucraini siano antisemiti e filonazisti, ma sono fattori che nella storia pesano naturalmente e non finiscono la memoria, il ricordo di queste vicende non finiscono così rapidamente. Dopo la fine dell'Unione Sovietica il governo ucraino è stato a lungo un governo amico. 2014 c'è di fatto un colpo di Stato, non è gradito dirlo o sentirselo dire, che rassomiglia perfettamente al colpo di Stato per cui Al-Sisi è diventato presidente dell'Egitto. In Egitto i fratelli musulmani avevano vinto le elezioni, il loro capo era diventato presidente dell'Egitto. Grandi manifestazioni di massa, eroiche eccetera eccetera, viene cacciato a furor di popolo il governo che peraltro era stato eletto dai cittadini egiziani e arriva il generale Al-Sisi col quale noi abbiamo ottimi rapporti e ci sembra un grande democratico, non voglio soffermarmi sulle sue qualità, gli forniamo armi a non finire, è un super protetto dagli Stati Uniti. L'operazione Kiev fu la stessa, la piazza Maidan per la quale tanto abbiamo lacrimato dicendo eroismo di massa eccetera, ha buttato via a furor di popolo un presidente Yanukovic che era stato eletto, va bene, quello si chiama colpo di Stato. In Ucraina è andata così e dopo gli effetti sono stati drammatici, cioè progressivamente l'impegno a mantenere l'Ucraina fuori dell'Alleanza Atlantica è stato messo in discussione e il de quo della guerra attuale purtroppo è proprio questo. Dopodiché il fatto di procedere mano militare ad un'invasione si espone a critiche giustissime in nome del diritto internazionale, ma è ovvio che chi voglia capire gli avvenimenti si deve porre anche il problema del perché questi avvenimenti si producono. Il lavoro che fanno gli organi di informazione serve a quello, cioè a impedire che affiorino alla coscienza delle persone domande di questo tipo. Se io ossessiono il telepaziente, il lettore di giornali esclusivamente con una miriade di notizie talure vere e tal'altra no, di carattere drammaticamente umanitario, evitando radicalmente ogni riflessione che vada al fondo delle questioni e dei problemi, io ho reso ottusi i cittadini pronti soltanto a deplorare, a urlare, a piangere, a deplorare e basta. Quindi la mattina non è mai successo direi, ma neanche ai tempi della guerra fredda. I tempi della guerra fredda certo c'erano i giornali schierati in maniera violenta, anticomunista eccetera, però c'erano anche giornali o settimanali che si pretendevano pensanti, non omologati, certo ultracritici verso il socialismo reale cosiddetto, il mondo, l'espresso, la voce repubblicana. Quindi questa totalitaria occupazione delle coscienze cui stiamo assistendo prima in pro del governo di emergenza e ora in pro del deplorare il conflitto, anzi invocarne uno più grande, è un'esperienza nuova, certo che rassomiglia a periodi storici che speravamo di avere completamente alle spalle.